Buongiorno, oggi ci spetta, visto che stasera devo fare una grossa spesa, ci conviene pulire il frigo. Adesso lo svuotiamo tutto, ci armiamo di aceto, acqua calda e spugnetta nuova pulita che non ci devono essere batteri e puliamo il frigo. Aceto, spugnetta pulita nuova e una scotch bright nuova e puliamo. Grazie a tutti. 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 Ok, pulizia del frigo fatta, come sono contenta. Adesso lo puliamo esternamente, togliamo tutte le calamite. smac acciaio alla mano e puliamo. A presto. Ok, il frigo è stato fatto. Volevo farvi vedere, chi di voi non lo so, ce l'ha questo proiettore? è un proiettore, luci laser per uso interni, due colori, però dice giochi di luci regolabili o a tempo di luci 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 o a tempo di luci. Non riesco a capire perché non va a tempo di luci, questo si attacca alla presa, alla corrente. E lo metti vicino al luci, però di sera e fa tutte le luci, i cuoricini, le stelline e le palline. non riesco a capire. Fatemi sapere se qualcuno di voi ce l'ha, se e come si fa a collegare alla musica. e questa marca qui, Maurer, l'ho pagato 17 euro. Ci sono anche quelli per esterni, io li ho visti nei giardini, però bisogna avere una villetta, un giardino o qualcosa, non ho preso questo, ma lo metto lì vicino all'albero, è davvero carino. Ho appena finito di stendere le ruove e vi dico cosa è successo l'altro giorno. Perché ho messo la sedia davanti alla finestra? Perché Roberto l'altro giorno mi ha chiusa fuori. Guarda, io volevo morire. Allora facevo, Roberto api, la fortuna mia è stata che non ha dato tutto lo scatto fino giù, l'ha dato per un quarto, no? Allora dicevo io, Roberto api, e quello faceva ancora un poco più giù. Roberto api, quello faceva ancora un poco più giù. Poi dopo cinque minuti ho fatto una forza incredibile e sono riuscita ad aprirla, ma la fortuna mia è che non aveva dato lo scatto fino giù, stava in questo modo. E finalmente sono riuscita a aprire. Mai con tre figli mai successa una cosa del genere. C'è tutto una prima volta. Io devo pulire quest'altra camera da letto, la stanza di mio figlio grande. non vi faccio vedere che cosa ci sta. La coperta, il giocattolo, il computer. Meglio che non ve lo faccio vedere. Io pulisco questa stanza e noi ci vediamo domani. Un bacio, ciao! Ciao! Ecco l'effetto delle luci. Forse sono riuscita a scoprire qual è il tasto effetto luci e che pulsa. Adesso ho chiuso le persiane, ma come vedete sono le 3 melodieci. E ho chiuso le persiane, va a vedere. Ti piace Roby? È bello? Dove sei? Dove sei? È bello? Sì, laviamo a terra. Non ci può mancare il nostro secchio per lavare a terra. Tette. Tette, e cosa stai mangiando? Il pane? Di ciao. Ciao. E di ciao ciao. Ciao ciao. Come finisce mamma i video? Ciao ciao. E si sente sopra la tua vocina. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao a domani. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.